Potremmo giocarcela in questo campionato? Chissà. Io naturalmente vi invito a vedere questo secondo round della stagione GP di Città del Capo Sudafrica perché è un grandissimo gran premio. Vai con l'intro! Hey ragazzi! Buah! A tutti e bentornati sul canale come sempre. Qui è il vostro Alas che vi parla. Piacere di rivedervi. Siamo qui come detto nel pre-intro per il secondo round della quarta stagione di Formula 3 per la 1&1 Racing Team. GP di Città del Capo in Sudafrica. Un gran premio sempre molto molto particolare e questo qua non è da meno. Però uno spoiler? Stranamente forse per il primo anno non ci sarà la pioggia. Dobbiamo continuare sul trend della prima gara e vi ricordo a coloro che non l'avessero vista di cliccare sull'angolo in alto a destra sul link che vi comparirà in questo momento per recuperare il primo episodio, il primo round GP delle Ardenne della quarta stagione. Come detto cercheremo di proseguire su quel trend perché forse questa è la stagione buona per riuscire a competere per qualcosa di alto, per qualche obiettivo veramente importante per la 1&1 Racing Team. Non aggiungo nient'altro. Vi chiedo come sempre di lasciare un like al termine del video se questo video vi è piaciuto, di cliccare sul tasto iscriviti e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Io vi anticipo il mio grazie per la visione di questo video, vi auguro buona visione e vi do appuntamento al termine del video per i saluti finali come sempre. Buona visione, ciao ragazzi a dopo! Eccoci di nuovo in postazione ragazzi per questo secondo round della quarta stagione di Formula 3 per la 1&1 Racing Team. Dopo devo dire un ottimo inizio di stagione cercheremo in questa gara di continuare questo trend positivo perché l'abbiamo già ripetuto più volte il nostro obiettivo è il massimo possibile quest'anno cercare di vincere il campionato costruttore in Formula 3. Tuffiamoci quindi nel nostro episodio, clicchiamo subito su continua per andare al nostro weekend di gara città del capo Sudafrica, il gran premio. Un gran premio che nelle passate stagioni, come avrete già sentito, già visto nelle scorse puntate, dal punto di vista del metto è sempre stato molto molto ballerino. Vedremo se sarà questo il caso anche in questa quarta stagione. Vediamo, possiamo scegliere il nostro sponsor in questo momento? Sarei tentato di provare a scegliere il sponsor centrale e il banco che però ci richiede un obiettivo di terzo o superiore. Il bonus gara sarebbe di, scusate, di 900.000 dollari nel caso raggiungessimo questo obiettivo. Per il rischioso perché partiremo in diciottesima e diciannovesima piazza visto che abbiamo raggiunto il secondo e terzo. Non so, forse è il caso di scegliere il nuovo sponsor, Special Effect, undicesimo posto superiore. Direi di far entrare ciò che è possibile al momento e andiamo alla nostra gara. Città del capo, Sudafrica, secondo round di 5 round in questo campionato di Formula 3. Sembrerebbe serena la gara, sembrerebbe serena forse per la prima volta in quattro stagioni, gara serena in quella del Sudafrica, in città del capo. Partiamo diciottesimi con Sofia Floers che nell'ultima gara partiva ventesima. Scegliamo le gomme. 22 giri. Potremmo farla partire con le super morbide, cercare di gestirli e passare un altro treno di super morbide. Potremmo anche partire con ultramorbide, però a quel punto dovremmo puntare più su una strategia a due soste. Direi di partire sulle super morbide e poi valutare le condizioni, la gestione della gara della nostra pilota. Quindi rivalutare durante la gara se effettuare due stint, quindi un solo pit stop o passare a una strategia a due soste. Per quanto riguarda i bonus meccanici, possiamo scegliere come nella scorsa gara il bonus meccanico più 8% prestazioni gomme super morbide per Sofia Floers, mentre per Dominic Nagy ha la stessa gestione delle gomme. Direi ugualmente di partire con super morbide anche per Dominic Nagy, anche se non sarebbe male in effetti l'idea di splittare le strategie per questa gara, far partire Nagy con le ultra morbide e decidere poi se fare tre stint con ultra morbide per lui. Non sarebbe una cattiva idea e direi di confermare. Partiamo con ultra morbide con Dominic Nagy, che parte anche in questa gara dalla diciannovesima piazza. Bonus meccanici non ne ha a disposizione, quindi 10% di relazione. Facciamo spingere sia su gomme che su carburante entrambi i nostri piloti. Quindi strategie splittate, vedremo se almeno uno dei due ci darà buone soddisfazioni. Scendiamo in pista. Si accendono le luci. 4, 5. Parte in questo momento il Gran Premio di Città del Capo con i due piloti che mantengono le stesse posizioni. Nagy poi perde momentaneamente, poi risalgono, ma sappiamo che in queste fasi le macchine sono tutte piuttosto vicine, quindi continuiamo a spingere per cercare di recuperare. Per ora lo stanno facendo, però basta trovarsi esterno e interno in una curva e si vanno a acquisire o perdere numerose posizioni. Sofia Floerce è in dodicesima al momento con Nagy subito dietro. Andiamo a gestire le gomme ora, ma continuiamo a spingere col carburante visto che la nostra gestione del carburante, il consumo carburante per la nostra auto è molto molto buono grazie allo sviluppo del telaio. Intanto Dominic Nagy risale in undicesima. Sofia Floerce è scesa fino alla quindicesima nuovamente. Tio Pulcher è in testa, purtroppo abbiamo già Mazepin in seconda piazza con Smollier e Malvestiti in terza e quarta. Poi c'è Valkla il primo con gomme super morbide. Poi la seconda con gomme super morbide, proprio Sofia Floerce in dodicesima piazza davanti a Dominic Nagy che è in tredicesima. Siamo molto molto bassi col carburante, quindi è il momento ora di gestirlo e faremo una rivalutazione anche sulle gomme tra poco. Abbiamo iniziato in questo momento il quinto giro, quindi sicuramente abbiamo un Nagy che in questo momento sta gestendo e passa Sofia Floerce e direi di farlo andare più veloce. Dominic Nagy di non gestire così tanto le gomme, Sofia Floerce è scesa intanto in quindicesima, ma le dobbiamo far gestire le gomme per cercare poi un overcut su tutti gli altri. Un po' la strategia che abbiamo compiuto nell'ultima gara. Dominic Nagy invece continuerà un po' a spingere un po' di più perché molto molto probabilmente passerà a un altro treno di ultra morbide e poi completerà con un altro treno di ultra morbide e quindi tre stint tutti con gomme ultra morbide all'incirca da sette giri tutti gli stint. Ora può spingere Dominic Nagy. Farà questo giro, completa questo giro, inizia l'ottavo in questo momento, cercherà l'overcut in questo momento, lo facciamo spingere anche sul carburante anche se siamo molto molto a secco e gli facciamo montare un altro treno di ultra morbide. Mentre Sofia Floerce va a gestire il carburante e a spingere un po' di più sulla gomma in questo momento perché deve recuperare assolutamente un po' di carburante. Dominic Nagy purtroppo è bloccato là davanti, supera Bo e sta mettendo sotto pressione Valkla e Snow, passa Snow, sta spingendo al massimo in questo momento. Facciamo abbassare il carburante in questo momento, la gestione del carburante di modo da recuperare qualcosina prima del pit. Entra Dominic Nagy mentre passa Sofia Floerce che è rientrata benissimo sul carburante. È in quarta piazza Sofia Floerce in questo momento ed è il momento di farla spingere al massimo. Mentre Dominic Nagy rientra in tredicesima piazza dietro Calan Williams. Lo facciamo spingere in questo momento sul carburante. È un momento chiave perché se passa in questo momento riesce ad avere pista libera con gomma nuova ma purtroppo lo passano da dietro addirittura perché siamo in quella situazione solita in cui ti trovi in mezzo al traffico e perdi tantissimo tempo. Dominic Nagy continua a scalare dall'undicesima alla dodicesima, ora in undicesima, mentre Sofia Floerce va ad iniziare ora l'undicesimo giro e poi rientrerà per un altro set di super morbide. È decimo. Dominic Nagy sta cercando di mettere sotto pressione Calan Williams lì di fronte. Lo passa, lo passa. Si mette in nona però si rimette interno Calan Williams e passa di nuovo. Decima nona. Continua lì la lotta purtroppo. Addirittura rischia di perdere anche la decima ora Dominic Nagy. Mentre Sofia Floerce rientra in questo momento anche lei purtroppo nel traffico. Anche lei purtroppo nel traffico. Deve cercare di spingere subito. Inizia il tredicesimo giro in questo momento per Nikita Mase. Pink in testa è riuscito a passare Purcell e ormai lo sta staccando. Purtroppo Sofia Floerce si ritrova sempre dietro quel trenino. Deve assolutamente gestire la gomma. Deve assolutamente gestire la gomma. Non può forzare troppo. Sofia Floerce. Tanto, tanto traffico in questo momento. Nikita Mazepin sta gestendo la gomma in maniera esemplare là davanti e riesce comunque a guadagnare su Theo Purcell. Mentre Nagy sta mettendo sotto pressione Calan Williams ancora una volta ma non riesce a passarlo. Deve attaccare. Proviamo a farlo spingere ancora così in neutra sul carburante ma poi dovrà comunque andare a gestirlo. Calan Williams si sta difendendo alla grande. Con le sue gomme super morbide Dominic Nagy non riesce a passarlo e ha un trenino dietro chiuso da Sofia Floerce. Lo facciamo fermare Dominic Nagy al quindicesimo giro per tentare un undercut. Vediamo. Selezioniamo. Sofia Floerce sta gestendo alla grande le gomme. Dominic Nagy fortunatamente rientra davanti ad Ahmed. Può spingere al massimo in questo momento. Lo facciamo spingere per tentare l'undercut sui vari Williams, Snow eccetera. Anche Bo che era là davanti. E' di nuovo il momento di gestire la gomma per Sofia Floerce che risale fino alla sesta piazza. Mentre Dominic Nagy risale in decima. E' riuscito. Ma Dominic Nagy l'undercut risalito in decima piazza. E ora tutti i piloti con gomma ben più usurata fino a Purcell e a Mazepin. Attenzione perché Mazepin, Purcell, Smoyer, Malvestiti e Snow hanno una gomma veramente in condizioni al limite e non so potrebbero addirittura fare un altro pit. Però Sofia Floerce non può spingere troppo. Vediamo Floerce che risale fino alla terza piazza in questo momento. In seguita però da Malvestiti e Smoyer che hanno gomma ultramorbida super nuova. Attenzione Sofia Floerce è rientrata subito dietro Purcell in seconda piazza con però Mazepin che ha perso tantissime posizioni. Ora è importante spingere sul carburante nei punti chiave per Sofia Floerce soprattutto qua sul dritto dove non sarà facile difendersi. Mazepin è lontanissimo. Mazepin è lontanissimo. Ha perso tantissimo. Era in testa. Dominic Nagy sta spingendo cercando perlomeno di spingere per mettere sotto pressione Dele Tras però non riesce a passarlo al momento. Dele Tras che ha una gomma super morbida molto molto usurata. Nagy che è pressato da Williams sta cercando di passare. Dominic Nagy ce la fa in questo momento. Lo facciamo spingere per consolidare la posizione. È così. Dominic Nagy è salito in settima piazza con Sofia Floerce che purtroppo ha perso la posizione su Malvestiti. Cerca di difendere il podio da Smoyer con Mazepin che ha guadagnato tantissimo. La facciamo attaccare in questo momento nella parte finale. È riuscita a staccarsi però attenzione perché hanno più trazione là davanti. Faccio fermare perché sembra che abbia consolidato mentre per Dominic Nagy è lontano da Lawson. Lo facciamo comunque attaccare quest'ultima parte sia sul carburante che sulle gomme. Sofia Floerce riesce a conquistare il secondo podio di fila. Terza piazza per lei. Dominic Nagy con una strategia a due soste tutto sultra morbide. Chiude comunque in settima piazza. Che gestione gomme per Sofia Floerce. È riuscita a difendersi da coloro che arrivavano da dietro con gomme ultramorbide nuove. Lei con super morbide totalmente usurate. Grandissima strategia. Peccato perché se avessimo scelto lo sponsor come avevo detto è il banco se non sbaglio. Avremmo raggiunto il terzo posto. Avremmo potuto acquisire 250 mila dollari in più. Ma non è un problema. Secondo terzo posto di fila per Sofia Floerce che penso a questo punto si si in testa alla classifica piloti. Sofia Floerce per One and One Racing Team in terza piazza. Federico Malvestiti per Trident in seconda. Chiude un 1-2 per la Trident. Theo Purcher in testa con la vittoria. 15 punti per Sofia Floerce. 6 per Dominic Nagy. Campionato costruttori. Ci siamo in testa alla classifica con 54 punti davanti alla Trident che ha siglato quest'oggi se non sbaglio 43 punti. Aveva fatto quindi un solo punto nella prima gara. 25 più 18 43 solo in questa gara. Seconda piazza. MP Motorsport invece che scende dalla prima alla terza con 38 punti. Via via tutti gli altri. Campionato piloti. Prima posizione per Sofia Floerce con due terzi posti. 30 punti per lei. Adam Kruger e Theo Purcher secondi a pari merito con una vittoria a testa a 25 punti. A 24 punti il nostro Dominic Nagy che ha siglato un secondo posto e un settimo. Vince Max Verstappen per Mercedes. Secondo Lando Norris con Scuderia Ferrari. Terzo Daniel Ricciardo per Renault. Mentre Charles Leclerc il campione in carica e il vincitore della prima gara si classifica in quinta piazza per questa gara. Campionato costruttori. Scuderia Ferrari sempre in testa. Più 9 su Mercedes. Red Bull Racing in terza. Mentre campionato piloti. Max Verstappen si se in testa la classifica con 40 punti. A 35 Charles Leclerc in terza da Nick Viet. Punti miglioramento. Ne acquisiscono uno a testa Sofia Floerce e Dominic Nagy. Dominic Nagy che perde la caratteristica a buon momento. Purtroppo doveva raggiungere un secondo posto. Ne ha raggiunto un settimo posto. Un ottimo comunque settimo posto per il nostro pilota rookie. Pakin Lopez acquisisce 10 punti di potenziale attuale. Dennis Beghi acquisisce 20 punti di potenziale attuale. Più sale sul potenziale massimo a 100 su 100. Mentre Hajime Narahashi acquisisce più 30 di potenziale attuale. Migliora sia in etica professionale che in stabilità. Direi di assegnare il punto a Dennis Beghi che al momento ha il potenziale massimo di 100 su 100. Sperando che entro fino a stagione anche sul potenziale attuale salga ad altrettanti punti. 1 in 1 Racing Team fa sul serio. Sembra che abbia acquisito più fornitori contemporaneamente. Ne avevamo due sulla via dello sviluppo. Abbiamo in questo momento un fornitore stradale in sviluppo e uno già sviluppato. Due fornitori navali, tre fornitori aerei. Direi di sviluppare un fornitore navale e un fornitore stradale. Così riguarda il fornitore navale abbiamo detto che ne sviluppavamo un altro stradale perché abbiamo solo navali e aerei al momento. Quindi direi di sviluppare un altro navale. Questo servizio yacht di Fortalesa per aprirci per bene il Sud America. Tre gare per entrambi i fornitori per essere sviluppati. Torniamo alla home. Il nostro costruttore ci avvisa che abbiamo dei potenziamenti nel QG. Lezioni per ingegneri. Sbloccato più due bonus aerodinamica a entrambe le auto. Andiamo nella schermata dei piloti per assegnare i punti miglioramento. Direi di continuare a sviluppare la fluidità di Sofia Floersch perché ci sta servendo tantissimo la gestione gomme di Sofia Floersch per gestire le gomme nella prima parte di gara visto che parte sempre dietro per poi spingere e tentare gli overcut. Abbiamo notato che è la strategia migliore per riuscire a riportarla lassù nelle posizioni che le competono. Mentre Dominic Nagy direi idem. Gli facciamo sviluppare la fluidità anche a lui. Dilemma. Boss. Sai quanti germi vivono sulla tavoletta di un water pubblico migliaia di miliardi. Se dovessi ammalarmi perderei le gare. È ovvio. Ti prego per il bene della squadra. Fai installare alcuni bagni personali nel QG così posso liberarmi in sicurezza. Non un bel messaggio sicuramente quello di Dominic Nagy però acquisirebbe la caratteristica felice con una spesa di 250 mila dollari. Abbiamo un buon fondo bancario quindi direi di accettare la sua richiesta. Nuova caratteristica felice che se non sbaglio li fa incrementare tutte le statistiche di un punto. Settimana di riposo con accordi in scadenza di sponsorizzazioni. Ambrosini scade. Andiamo a visualizzare le offerte. Abbiamo subito un'ottima offerta da parte di Max Velocity. Sei gare. Pagamento in anticipo 1 milione. Pagamenti per gara 600 mila dollari con 15 punti influenza. Se poi il 7 gare 5 milioni 500 mila dollari di pagamento in anticipo con 5 punti influenza. Il valore di denaro delle due offerte se poi le Max Velocity è più o meno equiparato però abbiamo 10 punti influenza in più di Max Velocity. Quindi direi di accettare l'offerta di Max Velocity. ingaggiamo lo sponsor. Saliamo addirittura nuovamente a 124 punti influenza che potrebbero essere veramente veramente utili nelle contrattazioni. E abbiamo rinnovato ancora una volta il nostro parco sponsor. Avremo il sponsor di El Banque in scadenza nella prossima gara. Dopo la prossima gara il GP del Bahrain. Quindi ragazzi abbiamo terminato con questo episodio qui dal Sudafrica. Un buon risultato perché siamo riusciti a hissarci in testa ad entrambe le classifiche piloti con Sofia Floersch e costruttori con la 1&1 Racing Team naturalmente. Quindi vi chiedo come sempre di lasciare un like e di commentare per farmi sapere se questo episodio vi è piaciuto. Vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Mi farebbe un grandissimo piacere e farebbe una grandissima differenza per il canale. Quindi fatelo. Non vi costa niente. E qui da Alas è tutto. Vi ringrazio ancora per la visione e vi do appuntamento ai prossimi episodi. Ciao ragazzi!